Presidente, nel momento più difficile della stagione arriva nuovamente il cambio in panchina, torna coach pilot, qual è la motivazione di questa scelta? Beh, le ultime 11 partite ci hanno spiegato che nulla è cambiato, la scelta di Calvani era semplicemente per dare uno scossone ai ragazzi, scossone che non è arrivato, quindi per questo motivo abbiamo deciso di fare un retrofront e di richiamare coach pilot di nuovo alla guida dei nostri ragazzi. Scelta fatta anche per tutelare il patrimonio dei giocatori, perché abbiamo un paio di giocatori che hanno un biennale e quindi volevamo dare un segnale, volevamo calmare sicuramente l'area negativa che si stava creando. Con coach pilot ripartiamo con un obiettivo, intanto quello di giocare tutte le partite al massimo, è anche vero che la classifica ad oggi non è dalla nostra parte, però lo sport è bello perché ci permette di sognare, sappiamo che è molto difficile, però il nostro obiettivo è quello di dare il massimo partita dopo partita. Lo abbiamo detto diverse volte che noi facciamo palla canestro per lasciare qualcosa sul territorio, e quindi l'obiettivo è andando tutelare il nostro logo e tutelare la fortitudo aggrigento, perché comunque questo è stato un anno difficilissimo, un anno difficilissimo che è stato dettato da tanti piccoli dettagli, che sicuramente molti dei nostri supporter, fans non zanno. L'annata 2023-2024 è stata difficile su tutti i fronti, anche sul fare mercato, perché l'asticella della Serie A2 si è alzata drasticamente e con lo stesso budget di tutti gli anni non siamo riusciti a fare il mercato che volevamo, o meglio abbiamo cercato determinate scommesse, semplicemente anche per il budget che ci ritrovavamo, scommesse che ad oggi non ci stanno dando esiti positivi. È un'annata, come ho detto, difficile, ma l'obiettivo è quello di vedere a lungo termine. Lungo termine non è giugno 2024, ma è vedere sicuramente al 2027. Noi vogliamo costruire qualcosa che sia equilibrato per la nuova riforma fiscale e sportiva che si è creata. Quindi l'obiettivo della fortitudo è tutt'altro. L'obiettivo della fortitudo è strutturarci per ripartire. Capiamo i malumori, ma è normale che abbiamo bisogno di tutti i nostri tifosi, lo zoccolo duro dei 400 abbonati. Quindi ci siamo. Questa è una situazione insolita nella storia della fortitudo, però sta lanciando un messaggio di ripresa. Si può dire che questo sarà anche un anno di transizione al di là dei risultati? Sì, allora, diciamo che insolita sì, però è capitato diverse volte sia l'anno quando giocavamo a Favara sia il primo anno del Palamongada dove gli andamenti sportivi, l'anno di esposito, gli andamenti sportivi non sono andati per come volevamo. Se non sbaglio l'anno di esposito siamo pure i retrocessi. Sicuramente il format, la formula del campionato ci penalizza perché essendo la prima volta che si viene a creare un girone salvezza ci troviamo in una situazione molto penalizzante rispetto agli altri anni perché se ci fossero stati i normali play-out sicuramente le carte in gioco sarebbero cambiate. Quindi ripartiamo, come hai detto tu, io non lo vedo come un punto di partenza, è un punto dove abbiamo sicuramente capito i nostri errori, è un punto che ci porterà sicuramente in maturità per le prossime scelte. Molti tifosi si chiedono quale sarà il futuro della fortitudo agrigento. Si può dire che, come hai detto tu adesso, è un punto di partenza e quindi vuole tornare ad alti livelli nei parcoscenici che contano? Allora, il futuro della fortitudo agrigento. Questa è una domanda che mi pongo sempre. La fortitudo agrigento sicuramente nei prossimi anni dovrà iniziare a essere molto più forte sul bacino del settore giovanile, nel senso che dovremmo creare nuovi supporter aumentando i numeri del mini basket e il numero del settore giovanile. Poi quando parliamo di livelli, quando parliamo di conquiste sul campo sicuramente vogliamo giocare per vingere, però per giocare per vingere ci vuole determinate cose che vanno tutte nella stessa direzione. Le lamentele che facciamo sul botteghino nascono perché noi vogliamo vingere, ma abbiamo bisogno degli spettatori, abbiamo bisogno di qualcuno che ci sostenga. Il sostegno avviene. Tifosi, abbonamenti e sponsor. Quindi dobbiamo far sì che questi due numeri, queste due carte aumentano in modo tale da essere competitivi con tutte le altre squadre di tutti i campionati, sia Serie A2 che Serie B.